Il punto sulla campagna vaccinale degli over 80. Conferenza stampa in regione con il presidente Nicola Zingaretti, l'assessore alla sanità Alessio D'Amato e il direttore del dipartimento di epidemiologia del Lazio Marina Davoli. Meno ricoveri e meno decessi, i risultati nella regione Lazio dati alla mano sono ottimi. Il ciclo vaccinale completo ha infatti ridotto del 91% l'incidenza e i ricoveri per il covid-19 degli over 80. Ad oggi abbiamo avuto adesioni in questa platea pari a 345.776, di cui 28.000 domiciliari, per cui un risultato assolutamente importante e straordinario di altissima adesione alla campagna vaccinale. La prima dose è stata somministrata al 92.06%, la seconda dose è stata somministrata al 75.5%. È chiaro che arrivare ad avere un'ottima copertura vaccinale di queste fasce di età contribuisce, e già lo stiamo vedendo in questi giorni, alla diminuzione prima dei tassi di ospedalizzazione e successivamente, perché sono quelli un po' più lenti, anche del tasso di letalità. La popolazione al di sopra degli 80 anni è un target importantissimo per le politiche vaccinali. Infatti, quasi un terzo delle ospedalizzazioni per covid, che si sono verificate nel Lazio, sono avvenute per persone al di sopra degli 80 anni. Ma soprattutto, quasi il 60% dei decessi è avvenuto in questa popolazione. L'efficacia del vaccino in questa fascia d'età, che è la prima che è stata target, su cui abbiamo quindi i dati sufficienti per misurare, è del 91%, cioè si è ridotta del 91% il rischio di ospedalizzazione per covid. Nella campagna vaccinazione era giusto iniziare e concentrarci su chi non solo rischiava di prendere il covid, ma oltre a prendere il covid rischiava più di altri di morire. Questo è stato il principio madre, è stata una grande scommessa, ma è una scommessa che abbiamo vinto. La campagna di vaccinazione anti-covid prosegue ed è pronta ad accelerare nei prossimi mesi, con l'obiettivo di vincere una volta per tutte la lunga battaglia al covid-19. Ora io mi permetto di dire, proprio alla luce di quanto è avvenuto, è il tempo di aver chiaro quello che occorre fare. Tre cose dico io. Primo, ovviamente, lo ha detto bene l'assessore, vaccini anticipando e non seguendo i processi. E quindi si entra nella fase della capillarità per andare incontro alle persone. La seconda è seguire le regole. E terzo, ovviamente, aiuti e ritorno alla vita per tutti.